Allora, siamo qui a farvi vedere con uno dei simboli dopo di Faito. Da quanti anni c'è questa attività? Sono più di 60 anni. Più di 60 anni. Allora, sembra che stia finendo questo Covid. Tra un po' ci sono gli dei punti guardi queste mascherine. Come la vede? Faito sta... Ma guarda, io sono convinto che sicuramente sarà un'ottima estate. Vedo la gente, diciamo, contento di avere il quasi di Faito. Tutti con la giornata, dove si sta bene, si sta una caffetta. Quando la del Covid è stato un momento di rinascita. Ma infatti, devo essere sincero, il Covid per noi è stato più, diciamo... Un momento di riscometto. Assolutamente. La gente è riscometto così, fatti libero a Faito. Spero a Faito non era frequentato come è stato frequentato nel periodo di Faito. Assolutamente, l'aria bella, l'aria fresca. Ora quindi bisogna andare su questo... Assolutamente, sì, noi dobbiamo migliorare i servizi. Aprire la strada perché se la nuova... Sì, e tra poco ci saranno alcune novità. L'amministrazione nuova ci sarà di una bella mano. Insomma, penso che il futuro sarà molto allo stesso. Va bene, grazie mille. A te i saluti. E venite il tuo 4 qua al Faito, grazie. Grazie, ciao. Grazie a tutti.